La prima partita era molto importante, senza pensare a nulla, dovevamo vincere, abbiamo cercato di mettere tutto ciò che ci è stato chiesto, anche se a tratti abbiamo avuto dei pali, l'importante è che siamo riusciti a vincere. Domani è una partita difficilissima contro Salerno. Sì, domani un'altra partita, adesso pensiamo a questa che è andata, le cose buone, domani riposiamo e domani affrontiamo un'altra gara.